Le squadre di medici e infermieri della Fiera del Mediterraneo hanno sbaltito l'intero carico delle prenotazioni domiciliari di questi mesi. Significa che chi necessita del servizio di vaccinazione a domicilio può usufruirne con tempi di attesa estremamente contenuti limitati ad una settimana al massimo. La struttura commissariale per la gestione dell'emergenza coronavirus della città metropolitana di Palermo ricorda che il servizio è riservato a tutti coloro che, indipendentemente dall'età, non siano in grado di deambulare autonomamente e che quindi avrebbero grosse difficoltà a recarsi alla Fiera del Mediterraneo o in altri hub per ricevere la somministrazione del vaccino anti-covid. Per chiedere il vaccino a domicilio è sufficiente prenotarsi sul portale del Lab Provinciale di Palermo, selezionare l'età di appartenenza, compilare l'anagrafica e tutti i campi richiesti. Sarà poi un impiegato alla struttura commissariale a contattare il paziente per fissare l'appuntamento a casa. Questo servizio rientra pienamente nella nostra idea di medicina di prossimità, dove il medico a raggiungere il paziente, specie se è più vulnerabile, per prendersi cura di lui, dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa. Ci ha permesso di arrivare nelle case di circa 20.000 persone che altrimenti sarebbero rimaste senza vaccino e di realizzare concretamente un'idea di sanità che è soprattutto inclusione. A maggior ragione, quando si parla di saluto, non può esistere marginalità di alcuna natura. I nostri medici e infermieri effettuano a casa prime, seconda e terze dosi. Invitiamo tutti coloro che non sono in condizione di venire negli hub e che non hanno ancora provveduto a vaccinarsi, ad usufruire di questo servizio, specie ora che i tempi di attesa sono ridotti al minimo, in modo comodo, rapido e semplice potranno proteggere se stessi e i loro cari.